Allora, ciao, 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 ciao Allora, ho iniziato con questo video perché mentre facevo la doccia avevo voglia di registrare un video a caso Quindi, tadan, oggi registro un vlog, devo guardare qua Oggi registro un vlog e come vi ho detto già nelle Instagram Stories Se non vi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, mi chiamo anche rexx02 Come ho detto nelle Instagram Stories, mia sorella sta per andare in clinica perché ha le prime contrazioni Perché, appunto, aspettava un bambino, mi è arrivato un messaggio Ok, aspetta un bambino, quindi sta per nascere in pratica Il bambino si chiamerà Mattia perché lei ha scelto questo nome perché lei piace un sacco E quindi mi fa male il braccio Comunque, adesso io mi trucco e vado da mia sorella Non so se riprenderò mentre sono lì ma spero di riprendere qualche parte per rendervi più partecipi E niente, ci vediamo dopo, ciao Per mettere una canzone, spero, prima di truccarmi Perché io mi trucco sempre con la musica Cioè, sempre, anche alle 7 di mattina quando vado a scuola Io devo mettere la musica, cioè, disturberò tutti ma devo E adesso sono in fissa con la canzone di Naya Dove, 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 dove Too much to ask è bellissima Voglio andare qui Voglio andare troppo al concerto E ci sarà a Milano a giugno, penso Questa è bellissima Adesso mi trucco Vado alla clinica Mio padre è tossiccia E niente, adesso raggiungo Oddio, raggiungo mia sorella al secondo piano Ciao Sono tornata alla clinica a casa di mia nonna Che tra l'altro è vicissima alla clinica Quindi se c'è un'emergenza bambino quasi nato Andiamo direttamente Però mia sorella ancora in clinica sta facendo una visita E poi dovrebbe o tornare o la fanno rimanere lì Però ancora non si sa In tutto ciò sono solita e mia nonna C'è realtà infedeltà alla televisione Tipo, what the fuck E mia nonna, sì, io me la vado sempre Mi viene un sacco di ansia E, tipo, si che ha un sacco con l'alta infedeltà Mi ha fatto ridere questa cosa E, motore Bravo Bravo Grazie E niente, mangerò il minestrone da mia nonna Questi sabati produttivi E, nulla Qui c'è Mati Saluta Il cane di mia nonna Mati Matilda Sì, molto felice devo dire Mi ha mosso la coda a tre secondi E questo è stato il suo Sembro io quando c'è matematica Esattamente E, niente Non ci vediamo dopo Non ci vediamo dopo Io vado a vedermi a te infedeltà Perché ho bisogno di Innervosirmi in qualche modo Namento Mia nonna mi ha chiesto alle 12.35 Se ho fatto colazione Cioè le sta cucinando il pranzo Hai fatto colazione Vabbè Ti amo nonna Lei mi guarda i video Quindi Salutiamola Ho finito i pranzari E mia nonna mi ha riempito di minestrone Mi riesco a umitare Perché lo fanno sempre Perché lo fanno Sto morendo Comunque, sì Penso che poi tornerò a casa Perché di pomeriggio vorrei uscire Non lo so Non lo so Ciao La togli questa uscita È normale Mi può ascoltare queste uscita napoletane Io mi vergognerai Tutti Togli Non vuoi parlare Qualcuno mi guarda Allora Stiamo per uscire Andiamo in centro Se lei la smette Cantare le canzoni napoletane Alla fine al cinema Non ci andiamo più Perché Non abbiamo passaggio È bello Essere minorenne Non avere la macchina E niente Mi porto un me Se non ti scarica la batteria Visto che sta lampeggiando Vabbè Dopo Davvero Il nostro posto preferito Bu Salle persone Diretto Fai giretto Faccio del video Vai 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 Allontanati Mi sono attivato Sto apriendo la pasta Saranno Ok 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 Forse è meglio Dall'altro lato Dall'altro lato Aspetta Dall'altro lato Questa è Sbagliato 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 Grazie a tutti.